È importante affrontare il tema della violenza, soprattutto della violenza di genere, oggi che questo fenomeno non è più semplicemente un fenomeno emergenziale o accasionale, ma sta diventando un dato, potremmo dire, strutturale della nostra società. E la scuola, per definizione, è il luogo dove si possono creare dei reali cambiamenti culturali, dove è possibile quindi affrontare criticamente queste tematiche. E noi vogliamo, in questo modo, creare un'occasione, un luogo in cui dare supporto, attraverso questo sportello, questo punto di ascolto, dare supporto alle studentesse, agli studenti, alle loro famiglie, quando si sentano in qualche modo minacciati da situazioni, da relazioni conflittuali improntate alla prevaricazione e alla violenza. Ma vogliamo anche creare un luogo in cui interagire con una importante associazione del territorio, qual è l'associazione, il centro violenza NANCHE, per poter effettuare una serie di interventi formativi durante tutto l'anno scolastico, e questo e gli anni a venire, che siano aperti non soltanto alla nostra popolazione studentesca, ma alla città. È un punto di intersezione tra una dimensione laboratoriale con i ragazzi, di formazione, il personale docente, e poi anche la possibilità di avere un punto di ascolto di alcune situazioni conflittuali connotate magari anche da violenza. Quindi questo punto NANCHE, attivo il primo martedì di ogni mese, dalle 10 alle 12, permetterà alla scuola di attivare un percorso a 360 gradi sui temi della discriminazione di genere, della lotta negli stereotipi, con la lungimiranza di mettere in piedi una collaborazione continuativa che permette poi alla scuola di spendere un pacchetto di conoscenze nel corso della vita scolastica.